Ciao, sono Carmen e vorrei raccontarvi la mia esperienza insieme a Vittoria. Io ho conosciuto Vittoria in un momento molto bello, ma molto particolare della mia vita, in un contesto altrettanto bello e altrettanto particolare, perché eravamo in Marocco in un viaggio di gruppo, seguendo una famiglia berbera attraverso le montagne dell'Atlante. È stato un viaggio pazzesco in cui siamo state messe davanti alla mancanza totale di comfort e comodità e a tutto quello che noi siamo abituati e diamo per scontato, ma non solo, è stato anche un viaggio attraverso e verso, o meglio, dentro di noi stessi. Io in particolare ho sentito molto questa cosa, proprio perché, come dicevo prima, mi trovavo in un momento molto particolare della mia vita. Io avevo smesso di giocare a palavolo poco prima di intraprendere questo viaggio, quindi finiva una carriera molto importante e dovevo, in un certo senso, reinventarmi, trovare un'altra passione a cui dedicarmi e un'altra passione che avrei voluto diventasse il mio lavoro. Conoscendo Vito in Marocco è stato proprio come si è accesa una lampadina, no? Perché ho detto, però, cavolo, ho conosciuto questa persona. Vito è una persona molto aperta, con cui mi sono trovata subito bene, mi ha messa subito a mio agio, quindi per questo, quando sono tornata a casa, ho detto, però, ho avuto l'opportunità di conoscere Vittoria, una persona che si occupa di crescita personale. Io, in questo momento, sto cercando di scoprire, di inventarmi, di reinventarmi, quindi, chi meglio di lei potrebbe darmi una mano? Perché, tante volte, quando le cose si vedono da un'ottica diversa, si scoprono anche sfaccettature diverse. Per questo ho telefonato a Vito e insieme abbiamo iniziato questo percorso di crescita personale. È stato un percorso che mi ha permesso di vedere e di capire tante cose su me stesso, ed era proprio quello di cui io avevo bisogno, perché avevo bisogno di vedere un po' quello che erano i miei punti di forza, perché tante volte, quando tu ti trovi, sei dentro, non riesci a percepire, non riesci a dare il giusto valore alle cose che tu hai. E quindi, Vittoria mi ha aiutata moltissimo in questo, mi ha aiutata a capire quali erano gli strumenti che io effettivamente avevo per potermi affacciare a una nuova avventura, a una nuova carriera. Oltre questo, il viaggio insieme a Vittoria mi ha permesso di ottenere anche parecchia consapevolezza, nel senso che Vittoria è stata veramente molto brava a capirmi, ad ascoltarmi, a capirmi, a tirar fuori quello che io in quel momento non ero in grado di fare, perché ero confusa, ero anche un po' spaventata, quindi attraverso di lei, attraverso la sua lucidità, attraverso i suoi metodi, attraverso le sue domande, io sono riuscita a inquadrare quello che mi sarebbe piaciuto fare e quello a cui avrei voluto dedicare del tempo. Quindi, per me, Vittoria è stata una bellissima guida, una bellissima forza che mi ha dato nel fare il primo passo verso qualcosa che io desideravo, e quindi non posso che ringraziarla ed essere veramente contenta di averla incontrata e di aver avuto la possibilità di farmi guidare da lei.